Sarà sicuramente una sfida importantissima per il corpo, anche perché dei lavori di questa dimensione penso che a Rimini non siano mai stati fatti, li aspettiamo da 30 anni. Noi siamo pronti, l'amministrazione ha capito la sfida che ci aspetta e ci fornirà tutte le risorse umane che saranno necessarie per affrontarla dal punto di vista sia della viabilità che del controllo del territorio.